Siamo all'interno del castello di Capopassero e documentiamo praticamente Grazie E' un po' male, il prossimo gioco. Ecco, qui non continuo. Vedi, sono scorti da pure. E vabbè, qui c'era il cammino pure. Si, passi. Ma giù, quella stanza lì dove è stato fatto rimanere quel coso? Quello era il bagno? Si, questo c'era il buco. Questo che cos'era qui? Ah, non lo capito, perché? Beh, dicevo. E' un mezzanino, forse un posto per conservare una specie di cassaforte, forse. Forse c'era una... Madonna, è stupendo, sta sotto. Bellissimo. Questa poteva uscire sotto. No, diciamo che questa è una struttura militare, no? Sembra più una struttura nobiliare. Sì, sì. Anche queste cose, anche questi elementi, diciamo così, no? Sì, sì. Eh? Sì. Eh, sì. E' tutte fasce del... Quella di Morghella. No, no. Dico anche, infatti, le erano tutte comunicanti, sicuramente, le storieanze. Questo è il lato della famiglia, no? Delle famiglie. Qui è vero. Questa è tutta comunicante. Eh? Io devo concludere il giro, ragazzi. La tradizione è roba di Morghella. Spettacolo, eh. Bella, eh. Bella, eh. Lory, ne voleva la pena, eh. Eh? No, dico a Lorenzo. Piace. Voleva la pena fare? No, mi ha detto che non valeva la pena. Chi l'ha detto? Nessuno. No, no, ha accettato subito l'idea. Dopo aver visto il castello di Andrie. Ah? Quest'anno tutti i castelli. E' fortissimo. Ma bella, non si avviene uno spazio espositivo naturale, proprio da come... Non ti lascio solo immaginare cosa ho trovato qua in terra di polvere di... Ah, certo. ...media. Non si vedeva qua. Hai visto come si rientra? Se questo lo lascio un paio di mesi... Ci dobbiamo. Io, in 3-4 giorni ci trovavo qui. Ah? Sì. Lì c'è... Ah? Sì. Sì. Su quelle rocce c'è una roccia bucata dove legavano una tonnera. Ah? Qua sotto. Il pedale c'è vero? Il pedale della tonnera, sì. Ah, sì? Sì. Buongiorno. Ma... Che c'è la mia madura. Maduro. Bellissimo. A me... Ma... 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 Oramai che ci siamo facciamo il percorso completo fino ad arrivare su, facciamo un video. Guarda avanti e aspetta che guarda su su. Grazie a tutti. Grazie a tutti.